Estra chiude fino al 25 marzo gli uffici al pubblico in coerenza con le ultime disposizioni governative per contenere il diffondersi del coronavirus. Estra mette a disposizione canali alternativi di comunicazione e servizio per svolgere senza alcuna differenza e con la medesima sicurezza e privacy le stesse pratiche che sarebbero svolte negli uffici al pubblico. Estra continuerà a garantire i servizi essenziali di pronto intervento fughe gas e guassi telecomunicazione. Niente servizio clienti e niente ricevimento del pubblico nelle sedi di Arezzo, Prato e Siena dove l'accesso sarà consentito solo su appuntamento.